Devi sapere, mia cara Lucilla, che venendo in Brianza il primo declivio che trovi è proprio questo, la montagnola dove sorge la nostra villa, Arcore, la porta per l'Abrianza. Perché come tutte le famiglie nobili, si diceva avessero origini e discendenze leggendarie. Dicevano che le origini della famiglia risalgono ad Arda, figlio di Ida, re di Pernicia. Cosa faccio? La villa la lascio ai miei di bambini? E che un discendente sposò in Italia una figlia del re Longobardo Adelchi, dando origini alla famiglia di Ardua, ovvero Arda. Cosa faccio? La villa la lascio ai miei di Bambini? E poi li faccio a tutti i baronetti!